Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Puginioner. In questo episodio affrontiamo un tema molto delicato e complesso che tocca le corde della fede e della spiritualità. Parleremo delle nuove direttive del Vaticano riguardo le apparizioni soprannaturali e la loro valutazione con uno sguardo particolare al caso della Madonna di Trevegnano e la veggente Gisella Cardia. Nuove norme, uscite proprio poche ore fa, 17 maggio 2024. Questo approfondimento si propone di esplorare i recenti cambiamenti nella gestione dei presunti fenomeni mistici e l'impatto di tali decisioni sulla comunità dei fedeli. Iniziamo con una panoramica generale. Il Vaticano ha recentemente stabilito che sarà il Papa ad avere l'ultima parola sulla soprannaturalità dei fenomeni e delle apparizioni. Questa decisione nasce dalla necessità di un discernimento più rigoroso e attento a tutela dei fedeli, come sottolineato dal Cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Il Cardinale ha specificato che queste nuove regole non mirano a spegnere lo spirito, ma a prevenire abusi e malintesi. Dunque, Gisella Cardia, in quale posizione si trova in questo momento? Il decreto che ha messo il Vescovo è ancora valido oppure no? Il Vescovo dice che non c'è nulla di soprannaturale, dunque lo dice la Chiesa. Oppure, ora con queste nuove norme, visto che solo il Papa può davvero dire l'ultima parola, questo decreto non vale più e dunque è il Papa soltanto che può dire che a Trevignano non c'è nulla di soprannaturale. Se fosse così vuol dire che Gisella Cardia ora è ancora in comunione con la Chiesa. Se fosse così vuol dire che tutto quello che è successo sinora non ha alcuna validità. Ma attenzione, perché se fosse così è anche possibile che il Papa emetta il prima possibile una scomunica ufficiale nei confronti di Gisella Cardia e degli altri fedeli seguaci di coloro che la seguono in questo cammino che ormai si è definitivamente staccato dalla Chiesa Cattolica di fatto. Ora entriamo nei dettagli delle nuove direttive. Il documento emesso dal Vaticano introduce sei tipologie di verdetti per le apparizioni esaminate. Queste categorie permettono una valutazione più sfumata e approfondita dei fenomeni soprannaturali. Vediamole una per una. La prima risposta è il Neil Obstat, che riconosce segni dell'azione dello Spirito Santo senza evidenziare criticità particolari. La seconda risposta è il Declaratio de Non Supernaturalitate, che permette al Vescovo diocesano di chiarire il fenomeno se è non soprannaturale basandosi su prove concrete e definitive. Questa risposta serve a chiarire situazioni in cui non vi è alcuna evidenza di intervento divino. Dunque, la dichiarazione di Non Supernaturalitate sembra che sia ancora valida in realtà. Un'altra risposta significativa è la Preoculis Abetur, che indica la presenza di segni positivi ma anche di possibili rischi. In questi casi si raccomanda un ulteriore discernimento e dialogo per evitare di trarre conclusioni affrettate, mantenendo sempre un approccio equilibrato. La quarta categoria è il Curatur, che riconosce significativi elementi critici ma anche frutti spirituali diffusi. In questi casi si suggerisce di non vietare il fenomeno per non turbare i fedeli, ma di monitorarlo attentamente e di non incoraggiarlo attivamente. Questo equilibrio è fondamentale per mantenere la serenità della comunità senza alimentare false speranze. Proseguiamo con la risposta sub-mandato, applicata quando le criticità sono legate a individui o gruppi che sfruttano il fenomeno per vantaggi economici o per attività parallele alla pastorale ufficiale. In tali situazioni la guida pastorale può essere affidata al Vescovo Diocesano o a una persona delegata dalla Santa Sede per garantire una supervisione adeguata. Infine abbiamo il Proibatur et Obstruatur, adottato in presenza di rischi gravi. Qui il di Castero chiede al Vescovo di dichiarare pubblicamente l'inammissibilità del fenomeno e di fornire una catechesi per spiegare le ragioni della decisione. Questo verdetto è riservato ai casi in cui il fenomeno possa portare a conseguenze dannose per la fede e la morale dei fedeli. Il caso della Madonna di Trevignano è uno degli esempi più controversi che ha probabilmente influenzato queste nuove direttive. Gisella Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, lo diciamo perché a volte alcuni mi criticano per chiamarla Gisella Cardia, almeno ricordiamo qual è il suo vero nome, è diventata nota per le sue affermazioni di aver ricevuto messaggi profetici dalla Madonna. Lo ricordiamo solo per chi non ci seguisse tutti i giorni, la sua storia inizia nel 2016 quando dichiarò di aver visto lacrimare sangue da una statuetta della Madonna acquistata a Meggiugori. Da allora Gisella Cardia ha sostenuto di essere portavoce di numerosi episodi miracolosi, profezie e poi stimmate moltiplicazioni di cibo, tra cui coniglio, gnocchi e pizza e guarigioni miracolose. Tuttavia gli esperti e le gerarchie ecclesiastiche hanno sempre espresso scetticismo riguardo a questi fenomeni distanziandosi dalle sue affermazioni. Le nuove direttive del Vaticano sembrano proprio mirare o mirate a regolamentare casi come questi dove fenomeni soprannaturali sono utilizzati per ottenere notorietà e in alcuni casi anche un lucro personale. Dunque le nuove regole del Vaticano rappresentano un passo significativo verso una gestione più attenta, forse, e responsabile dei fenomeni soprannaturali. Garantire che la fede dei fedeli non venga strumentalizzata è fondamentale per preservare almeno per il Vaticano la purezza e l'integrità della spiritualità. Sarà interesse osservare come queste direttive influenzeranno i casi futuri e come il discernimento papale si evolverà in risposta dunque ai nuovi fenomeni che emergeranno e ce ne sono ripeto più di duecento almeno in Italia attivi in questo momento di veggenti. Continuiamo il nostro approfondimento sul caso della Madonna di Trevignano, la veggente Gisella Cardia, esaminando le recenti dichiarazioni del cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Di Castello per la dottrina della fede e Cardinale Fernandez ha chiarito che la questione riguardante Trevignano romano può ancora essere risolta in modo bonario. Ma ha anche ammonito che se il fenomeno dovesse crescere, dunque non continuare, ma se dovesse crescere non si esclude la possibilità della scomunica. Queste parole risuonano come un avvertimento chiaro e deciso nei confronti della veggente e dei suoi seguaci, ma sembra anche piuttosto banale perché mi sembra che la Chiesa già abbia detto la sua, si sia pronunciata, dunque l'ammonimento, l'avvertimento era già stato emesso ufficialmente. Ora sarebbe il caso che la Chiesa prenda dei provvedimenti. Ma il decreto emesso dalla diocesi di Civita Castellana e dal vescovo Marco Salvi, contenente la formula constat de non supernaturalitate, ha già stabilito che le apparizioni di Trevignano sono false e che la Madonna sul lago di Bracciano non è mai apparsa. Tuttavia Gisella Cardia ha continuato, imperterrita, ormai non la ferma più nessuno davvero, gli incontri di preghiera con i fedeli e le apparizioni fasulle disobbedendo apertamente al vescovo. Il cardinale Fernandez ha anche sottolineato che il di Castero per la dottrina della fede potrebbe intervenire direttamente se il vescovo non fosse in grado di risolvere la situazione. Dunque sembra più un avvertimento al vescovo che a Gisella Cardia, quello del cardinale. Questo intervento sarebbe motivato dalla necessità di preservare l'unità e la coesione della comunità cattolica, evitandola che la situazione sfugga al controllo e si trasformi in uno scisma. Ma da quello che leggo nei commenti anche del nostro podcast qui di Radio Pugginio NER, direi che c'è già in atto, sembra uno scisma che non riguarda solo Gisella Cardia, ma uno scisma, una filosofia, un modo di pensare. Soprattutto moltissimi ritengono che il Papa Bergoglio non sia il Papa ufficiale, dopo che nel momento in cui ci sono stati due Papi contemporaneamente, il Papa per molti rimaneva Ratzinger, e dunque non accettano molti anche seguaci di Gisella Cardia che dicono che non sia il vero Papa Bergoglio. Dunque uno scisma in tal senso sembra esserci già, e non riguarda solo Gisella Cardia, ma anche sempre comunque fenomeni simili, insomma, le persone che seguono Gisella Cardia, seguono anche Meggiugori ed altri fenomeni simili, insomma, dunque appartengono ad una certa filosofia, un modo di pensare, che sta scindendo appunto la Chiesa. Saranno ancora numeri molto piccoli, per questo probabilmente la Chiesa ha deciso di emettere una scomunica nei confronti di Gisella Cardia solo se il fenomeno dovesse crescere, dunque è forse per paura proprio di questo, è una paura politica, non tanto una preoccupazione per i poveri seguaci che vengono manipolati e truffati. Uno dei criteri fondamentali che usa la Chiesa per valutare l'autenticità di apparizioni e fenomeni soprannaturali è la comunione con la Chiesa Cattolica, ovviamente, no? Tuttavia i messaggi diffusi da Gisella Cardia sembrano andare contro questa comunione, criticando apertamente la Chiesa e accusando i suoi ministri di eresia, e l'abbiamo visto negli ultimi messaggi, soprattutto quanto spinge su questo tasto e questo atteggiamento contrastante solleva delle domande cruciali sulla veridicità delle presunte apparizioni e sulla sincerità della Veggente. La tensione tra le sue affermazioni e la dottrina della Chiesa mette in luce l'importanza di un discernimento rigoroso e obiettivo da parte delle autorità ecclesiastiche. In conclusione, il caso della Madonna di Trevignano rappresenta una sfida complessa per la Chiesa Cattolica che cerca di bilanciare la difesa della fede con la tutela dei fedeli. Sarà interessante osservare come questa situazione si evolverà nel tempo e quali saranno le decisioni prese dalle autorità ecclesiastiche. Il caso della presunta lacrimazione della statuaetta della Madonna Trevignano è uno dei più recenti e discussi degli ultimi anni e questo fenomeno promosso dalla Veggente autoproclamata Gisella Cardia ha suscitato un'ampia attenzione e dibattito sia all'interno che all'esterno della Chiesa Cattolica. Il Vescovo di Civita Castellana che si è trovato in questa situazione sfortunatamente ha preso posizione su questo caso evidenziando errori dottrinali e l'inattendibilità emersa dalle perizie psichiatriche della presunta Veggente. Inoltre sono emersi sospetti di attività di lucro collegati a questo fenomeno che hanno sollevato ulteriori dubbi sulla sua autenticità e sincerità. Anche Papa Francesco ha affrontato dunque il tema delle presunte visioni e apparizioni con fermezza citando esplicitamente il caso di Meggiugori. Il Pontefice ha sottolineato che la Madonna non è un'impiegata delle poste, lo aveva detto in passato, respingendo l'idea di apparizioni regolari e prevedibili come orari fissi di lavoro. Queste parole del Papa evidenziano la sua preoccupazione per il dilagare di fenomeni soprannaturali non controllati e per il possibile sfruttamento commerciale di tali eventi e meno male che se ne preoccupi, che se ne preoccupa la storia delle apparizioni soprannaturali nel cattolicesimo è ricca e complessa con episodi celebrati come Lourdes e Fatima che hanno segnato profondamente la spiritualità di milioni di fedeli in tutto il mondo. Tuttavia la proliferazione di segnalazioni di fenomeni soprannaturali negli ultimi anni, alimentata anche dalla diffusione dei social media, ha sollevato nuove sfide e domande per la Chiesa. La Santa Sede si trova ora di fronte alla necessità di porre un argine al dilagare di simili segnalazioni, stabilendo criteri più stringenti per il riconoscimento ufficiale di tali casi. Questo nuovo approccio mira a proteggere la fede dei fedeli e a preservare l'integrità della dottrina cattolica di fronte a fenomeni potenzialmente fuorvianti e dannosi, anche perché se si continua ad indagare su certi fenomeni, così come stiamo facendo su Gisella Cardia e la Madonna di Trevignano, ciò vorrebbe dire un ulteriore pericolo per la Chiesa. Quello che nel momento in cui le persone capiscono che è molto facile manipolarle oppure inventarsi delle storie che all'inizio magari sembrano credibili, eccetera, 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 potrebbero associare questo anche a quello che ha fatto la Chiesa o che fanno le religioni, lo stesso tipo di approccio, ma certamente ormai con un'ufficialità e una storia alle spalle che le rende più credibili. Però per dire che se la gente inizia a ragionare troppo su certe cose, forse anche per questo poi il Papa ha l'ultima parola su questi fenomeni e non è nemmeno obbligato a pronunciarsi alla fine, perché proprio per questo forse in questo decreto si è voluto dire noi se vogliamo ci pronunciamo, se non vogliamo non ci pronunciamo, se non ci pronunciamo non vuol dire che quel fenomeno sia vero, ma non vuol dire nemmeno che non sia vero. Insomma ha voluto sottolineare che non è che la Chiesa deve per forza stare lì, comunque non è obbligata a dire un sì o un no di fronte a certi fenomeni, perché la voce ufficiale che si pronuncia è solo quella del Papa e il Papa sembra capire dal decreto che si pronuncerà anche molto raramente. Perché lo ritengo davvero conseguente e normale che nel momento in cui la Chiesa viene interrogata, così come è stata fatta sulla Madonna di Trevignano con tutto questo caso mediatico eccetera, la Chiesa viene interrogata su certi fenomeni, la gente si interroga su certi fenomeni e allora la gente inizia a ragionare, i cattolici stessi eccetera, ma se non è vero questo non è vero nemmeno il miracolo magari di San Gennaro, piuttosto che le stimmate di questo o le apparizioni e i messaggi di quest'altro che invece la Chiesa dicono siano vere. Sulla base di cosa questo è vero e questo non è vero perché lo dice il Papa? Allora la gente magari inizia a riflettere nel momento in cui la Chiesa ha un modo per lavarsene un po' più le mani a quel punto perché è naturale. Un conto è tirare la giacchetta al vescovo, è vero, non è vero, è vero, non è vero. Un conto è tirare la giacchetta al Papa, no? e poi non c'hanno la giacchetta, la tonaca, ecco volevo dire. Al prete il conto è tirare la tonaca al Papa, insomma. Dunque i media sono stati molto insistenti perché il vescovo doveva pronunciarsi in tal senso sulla Madonna di Trevignano non lo hanno fatto, non hanno mai nominato il Papa, non hanno mai detto che il Papa deve dire se... nessuno l'ha mai fatto, insomma. Dunque il fatto che solo il Papa poi c'ha l'ultima parola su tutto ciò innanzitutto mette ancora in discussione, cioè non siamo riusciti a capire, magari voi potete, molti di voi si ritengono anche esperti di queste cose per cui potete aiutarci a capire questo aspetto. Un dubbio che ho in questo momento, poi magari lo capisco fra dieci minuti, ma in questo momento il dubbio che mi viene e che condivido con voi è nel momento in cui è il Papa che ha l'ultima parola, a quanto pare da questo decreto, il decreto che ha messo il vescovo, già da queste nuove norme volevo dire, il decreto che ha messo il vescovo è valido? Sì, sicuramente è valido, ma fino a che punto? È soltanto una pronuncia che fa il vescovo ma non è che con queste nuove norme del Vaticano, sapete, nel momento in cui il vescovo emette un decreto del genere, ok, sono tutti scomunicati. A questa sarebbe stata una norma, no? Che è molto chiara, insomma, palese, che dava un'autorità piena al vescovo. Invece no. C'è il Papa che ha l'ultima parola. Dunque questo decreto si riduce solo ad essere un invito ai fedeli a non andare, a non partecipare, eccetera, eccetera. Tanto che il Cardinale parla di possibile scomunica, ma ancora, ecco, non è una cosa così concreta a quanto pare. Ripeto, l'impressione mia è che queste nuove norme servano a dire guardate, non è che la Chiesa è costretta a pronunciarsi sul primo scemo che arriva e dice di vedere la Madonna, insomma, state tranquilli, non ci rompete le scatole, se c'è un fenomeno che richiede particolare attenzione, allora il Papa dice sì, questo è vero, ok, oppure magari qui c'è un bel business da fare, dice, oh sì, questo è vero, vabbè, naturalmente questa è una battuta, non voglio mettere in discussione l'onestà del Papa. Più che altro penso che la preoccupazione del Papa sia quella di preservare la Chiesa cattolica, davvero perché se la gente inizia ad interrogarsi troppo su questi fenomeni, poi inizia a domandarsi anche, ma la Chiesa dice però che questo è vero, allora che differenza c'è con Gisella Cartier o con altri, eccetera, no? Quindi se la gente inizia a farsi troppe domande anche questo non è buono, è meglio non parlare troppo di questi fenomeni, no? È meglio che la Chiesa sia protagonista, per esempio, della Rai, dove è protagonista, ha un'alta quota di visibilità in Rai, preferisce magari, ecco, farsi vedere un po' come in genere funziona con il Presidente del Consiglio, no? Che nel momento in cui ha quel ruolo, il Presidente del Consiglio ha quell'immagine, vuole mantenerla, quindi non va più nelle trasmissioni, vuole mantenere un'immagine e dunque usa solo determinati mezzi di comunicazione. Ma non perdiamo tempo, queste sono più battute che poi tra l'altro non fanno ridere. Il caso della Madonna di Trevignano dunque rappresenta solo uno dei tanti esempi delle sfide che la Chiesa Cattolica deve affrontare nel campo delle apparizioni soprannaturali. È un richiamo alla responsabilità e alla vigilanza da parte delle autorità ecclesiastiche, ma anche un'opportunità per riaffermare la centralità della fede e della verità nel cammino spirituale dei credenti. Naturalmente se ci stanno tanti che vanno in giro dicendo cose diverse da quella che è la religione ufficiale, il Vaticano deve riaffermare la sua verità. Cosa cambia con le nuove regole per valutare la veridicità dei fenomeni soprannaturali? Dunque, questa è la domanda che molti si stanno ponendo dopo l'annuncio delle nuove disposizioni presentate proprio poche ore fa, il 17 maggio 2024, in conferenza stampa dal teologo di fiducia del Papa e prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, insieme al segretario dello stesso Dicastero, Monsignor Armando Matteo. Secondo le nuove norme, la Chiesa avrà nuove linee guida per discernere la validità dei presunti fenomeni soprannaturali. Queste regole mirano a fornire, secondo la Chiesa, un quadro più chiaro e rigoroso per valutare le manifestazioni che si dichiarano di origine divina. Uno degli elementi chiave citati delle nuove norme è la centralità del discernimento che sarà guidato da criteri ben definiti. La Chiesa cercherà di individuare ogni singolo segno di un'azione divina nei fenomeni presunti soprannaturali e valuterà attentamente i messaggi e gli scritti associati a tali eventi, assicurandosi che non vi sia nulla che contrasti con la fede e buoni costumi alla fine, come è stato fatto dalla commissione che ha investigato su Gisella Cardia, che aveva a capo il Vesco Marco Salvi. Inoltre, le nuove regole prevedono un'esaminazione dei frutti spirituali dei presenti fenomeni, con l'obiettivo di purificarli da eventuali elementi problematici, di mettere in guardia i fedeli, dai pericoli che potrebbero derivarne. Questo approccio riflette la preoccupazione della Chiesa anche per il benessere spirituale della comunità e la sua responsabilità, naturalmente, nel guidare i credenti lungo il cammino della fede. Dunque, una responsabilità che la Chiesa sente, al di là poi dei dubbi e delle battute, sicuramente anche per il messaggio che dà. Dunque, se qualcuno lo usa in modo sbagliato, ne sente la responsabilità, anzi, deve sentirne la responsabilità, assolutamente, perché è la Chiesa che ha messo in giro certe idee e dunque è giusto che ne abbia tutta la responsabilità se qualcuno poi si inventa presunte apparizioni. Dunque, l'importante novità è che, in via ordinaria, la Chiesa non prevedrà un riconoscimento positivo circa l'origine divina dei presunti fenomeni soprannaturali. Questo significa che nei vescovi diocesani, nelle conferenze episcopali, nel dicastero per la dottrina della fede, dichiareranno autonomamente la natura soprannaturale di tali eventi. Sarà solo il Santo Padre a poter autorizzare una procedura formale in tal senso. Queste nuove disposizioni, dunque, segnano un cambiamento significativo nella gestione delle apparizioni soprannaturali all'interno della Chiesa Cattolica, ponendo maggiore attenzione alla prudenza e la responsabilità nell'affrontare tali fenomeni. Le nuove regole rappresentano un tentativo della Chiesa di rispondere in modo efficace e adeguato alla proliferazione di segnalazioni di fenomeni soprannaturali, garantendo al contempo la protezione della fede e il bene dei fedeli. Questo ci dice la Chiesa, che da sempre al centro di controversie e dibattiti sembra aver aggiunto un nuovo capitolo alla sua storia con queste recenti norme emanate dal Vaticano riguardanti i fenomeni soprannaturali. Dunque, cosa cambia davvero? Da molti interpretate come un tentativo della Chiesa di evitare di assumersi responsabilità dirette nella valutazione dei fenomeni soprannaturali, si potrebbe pensare che la Chiesa stia cercando di lavarsene le mani, dando l'impressione che non sia obbligata a pronunciarsi sulla natura soprannaturale di tali eventi se non in presenza di un intervento esplicito del Papa. E questa interpretazione solleva delle domande importanti sul ruolo e sull'autorità della Chiesa nel discernimento spirituale. Forse la pressione mediatica e l'opinione pubblica hanno spinto la Chiesa ad elaborare tali norme dopo il fenomeno di Trevignano come un tentativo di giustificare la sua posizione futura nel non prendere eventuali provvedimenti nei confronti di falsi veggenti o apparizioni. Nel caso specifico di Gisella Cardia si potrebbe sostenere che la Chiesa non avrebbe mai emesso un giudizio su questo fenomeno se non ci fosse stato un clamore mediatico così intenso. Questo solleva interrogativi sulle motivazioni della Chiesa e sulla sua trasparenza nel trattare casi simili. Per esempio ricordiamo il veggente di Paratico Marco Ferrari che dopo 30 anni la Chiesa non ha né riconosciuto né scomunicato questo veggente. Insomma un caso che non era uscito fuori, non è uscito fuori neanche ora perché nessuno ne parla ma in un momento di gloria è andato in televisione Marco Ferrari a dire guardate la Madonna mi ha detto che non sono vere le apparizioni di Trevignano e quindi questo è molto divertente se ci pensiamo. E in questo momento di gloria insomma è apparso non so se ancora ne parlerà qualcuno, forse ne parleremo o no, ne stiamo parlando solo noi probabilmente. Però per dire ce ne sono tantissimi e anche lui ha un bel giro di persone che lo seguono così come Scozzaro, il prete, ora gli arresti domiciliari, l'ex frate che sembrava essere il, forse proprio così dai messaggi che emergono, il correttore non automatico ma colui che correggeva i messaggi che scriveva Gisella Cardia e poi spacciava per messaggi della Madonna così come uno dei padri spirituali, dei punti di riferimento, tanto che Gisella Cardia l'ha elogiato pubblicamente in un raduno. Dunque dei rapporti molto discutibili con persone che hanno già dato segni di sicuramente di distacco nei confronti della Chiesa Cattolica. Un altro punto di discussione perché poi come sempre nei commenti dei nostri episodi anche nel commenti di questo episodio vi invito a fare un dibattito insieme sui temi che sto sollevando con questo approfondimento che spero vi faccia piacere. E un altro punto, dicevo, di discussione riguarda il trattamento differenziato, riservato da parte della Chiesa a diverse apparizioni. Mentre alcune come Fatima e Lourdes sono state riconosciute e persino sfruttate commercialmente, altre come quelle associate a Gisella Cardia non sono state respinte con fermezza e anche precocemente portando persino all'evocazione della scomunica e vedremo se arriverà. questo dualismo nell'approccio della Chiesa solleva dubbi sulla sua coerenza e sulla sua imparzialità nel valutare i fenomeni soprannaturali. La questione diventa ancor più complessa quando si considera che alcuni veggenti siano stati riconosciuti solo postumi mentre altri vengono respinti anche in vita. In definitiva le nuove norme del Vaticano aprono un dibattito importante sul ruolo della Chiesa nel discernere i fenomeni soprannaturali e sulla sua responsabilità verso i fedeli. Sono un tentativo di chiarire le procedure e le linee guida per affrontare questi casi ma sollevano anche interrogativi sulla coerenza e l'equità del trattamento riservato a apparizioni diverse, presunte diverse apparizioni o apparizioni riconosciute dunque. Una delle questioni più dibattute riguardo alle nuove norme del Vaticano è la presunta connessione tra il riconoscimento ufficiale di apparizioni soprannaturali e potenziali vantaggi economici che la Chiesa potrebbe trarne. Diciamo la Chiesa nel suo complesso. Questo solleva interrogativi fondamentali sulla trasparenza e sull'integrità della Chiesa nel trattare tali fenomeni. Nel caso di Gisella Cardia molti osservatori si chiedono se la Chiesa avrebbe mai emesso un giudizio su questo fenomeno se non ci fosse stato un clamore mediatico così intenso e se ci fosse stato un bel business invece che si fosse creato in questi anni. Invece evidentemente non è andata così. L'approccio dunque allo stesso modo si possono sollevare domande sul perché la Chiesa abbia adottato un approccio diverso con altri casi come quello di Meggiugori dove si è rifiutata di pronunciarsi fino a quando i veggenti non siano deceduti. Il fatto che la Chiesa abbia riconosciuto dunque apparizioni diverse come Fatima o Lourdes nonostante i messaggi apocalittici per esempio di Fatima e controversi associati a queste apparizioni basta pensare ai tre segreti di Fatima e assolutamente ne abbiamo parlato proprio poche ore fa in uno speciale che vi invito ad andare a riascoltare o ad ascoltare e ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa per l'anniversario dell'apparizione di Fatima. Dunque abbiamo sollevato dei dubbi anche sul fenomeno di Fatima e sulle parole delle veggenti e dei veggenti soprattutto di Suor Lucia molto simili a quelle pronunciate, profezie molto simili a quelle pronunciate da Gisella Cardia. Alcuni critici accusano la Chiesa di adottare un approccio selettivo riconoscendo solo le apparizioni che potrebbero portare benefici economici o prestigiose opportunità di pellegrinaggio dunque sempre legate al turismo e al benessere di certi ambienti. Il caso di Gisella Cardia evidenzia la complessità e le contraddizioni nel modo in cui la Chiesa gestisce i fenomeni soprannaturali. Mentre alcuni sono accettati e persino sfruttati commercialmente altri sono respinti con fermezza portando addirittura minacce di scomunica per coloro che vi sono coinvolti. Questa disparità di trattamento solleva domande cruciali sulla motivazione della Chiesa e sul suo impegno per la verità e l'integrità spirituale. La questione diventa ancora più urgente quando si considera che molti credenti basano la propria fede su queste apparizioni e messaggi soprannaturali. Dunque il presunto business legato alle apparizioni soprannaturali rappresenta una sfida per la Chiesa nel mantenere la sua credibilità e autorità spirituale. È essenziale che la Chiesa sia trasparente e coerente nel trattare tali fenomeni garantendo che le decisioni siano guidate dalla ricerca della verità e dalla cura del bene spirituale dei fedeli. L'avviso è chiaro, il Vaticano ha deciso di stringere le redini sui presunti fenomeni soprannaturali comprese le apparizioni. Questa mossa evidenzia la crescente preoccupazione della Chiesa riguardo al dilagare di presunti veggenti e pseudosantoni che secondo le nuove direttive non potranno più ottenere un riconoscimento ufficiale senza l'approvazione diretta del Papa. Ma quello che non ho capito se anche per il disconoscimento dunque vale la stessa cosa. Le nuove norme del dicastero della dottrina della fede, sottoscritte anche da Papa Francesco, ridisegnano radicalmente il processo di discernimento spirituale. Né il vescovo locale dunque, a quanto pare, né il Vaticano in generale con le sue commissioni potranno più emettere una dichiarazione riguardante la soprannaturalità di un fenomeno, lasciando questa responsabilità in via del tutto eccezionale solo al Papa. Dunque un cambiamento significativo è il ruolo rafforzato del dicastero della dottrina della fede nel processo di discernimento. Sebbene il compito principale rimanga quello del vescovo diocesano, le nuove norme stabiliscono che il dicastero debba essere consultato e intervenire prima che il vescovo dia una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Ok, e dunque nel caso di Gisella Cardia il vescovo ha comunicato al dicastero la sua decisione prima oppure ha fatto di testa sua. Insomma, probabilmente questo è stato fatto apposta perché c'è stato un modo di procedere da parte del vescovo di Civita Castellana che non è piaciuto al Papa o a chi ha preso queste decisioni. Questa è un'altra domanda che dobbiamo porci. Finora il processo decisionale era limitato a due opzioni, constant de non supernaturalitate o constat de soprannaturalitate. Tuttavia, con il numero estremamente limitato di casi risolti ufficialmente dal 1950, diventa chiaro che la Chiesa sentiva il bisogno di rivedere le sue procedure. Ora, con sei possibili pronunce diverse sulla natura di presunte apparizioni o fenomeni soprannaturali, la Chiesa si impegna a un maggior rigore e attenzione nel discernimento spirituale oppure a mettere una grandissima confusione in più nella testa delle persone. Queste nuove direttive mirano per la Chiesa a garantire una gestione più rigorosa e invece responsabile di questi eventi, sembra per proteggere la fede e i fedeli da abusi e manipolazioni. Non ho chiaro il modo in cui possano farlo maggiormente rispetto a prima. In conclusione, l'annuncio delle nuove norme del Vaticano segna un punto di svolta nel modo in cui la Chiesa affronterà questi fenomeni soprannaturali. È un chiaro segnale della sua determinazione a proteggere la fede e la spiritualità dei credenti senza concedere spazio a presunti falsi veggenti o opportunisti. Questo almeno ci dicono, dunque, il primato su certe bugie, il primato su certe bugie, come quelle riconosciute di Lourdes o Fatima, deve averlo solo il Papa. Questo è il significato. A lui solo al Papa compete probabilmente valutare se il business ne vale la conferma ufficiale sulla veridicità o meno di certi fenomeni truffa. Il Vaticano, con le nuove norme sulle apparizioni, dunque, sembra che voglia decidere di mettere un freno al clima sensazionalistico che spesso circonda i presunti fenomeni soprannaturali. E questo richiamo alla moderazione evidente nelle indicazioni del di Castero per la dottrina della fede sottoscritte anche dal Papa. Comunque, il documento di Ocesano, il documento sottolinea che il Vescovo di Ocesano deve agire con cautela per contenere le manifestazioni religiose confuse e la divulgazione di materiali relativi ai presunti fenomeni soprannaturali, come lacrimazioni di immagini sacre o sudorazioni, al fine di evitare un sensazionalismo eccessivo. Insomma, l'invito è a contenere, sebbene in alcuni casi i fenomeni di presunta origine soprannaturali possano avere un valore pastorale, è fondamentale riconoscere le criticità che possono sorgere danneggiando la fede dei fedeli. Il Vaticano esorta quindi la Chiesa a intervenire con sollecitudine pastorale in tali situazioni. Probabilmente questo è vero se il Vescovo, il primo Vescovo, colui che ha preceduto Marco Salvi, non avesse benedetto in chiesa con la statuina presunta lacrimante o lacrimosa di Gisella Cardia, non avesse benedetto la folla con quella statua, riconoscendo così in un certo qual modo la veridicità di quell'evento. Ciò non avrebbe avuto lo stesso impatto nei confronti poi dei fedeli che erano in quella chiesa e poi sono diventati fan sfegatati di Gisella Cardia. Dunque una bella responsabilità da parte di quel Vescovo. Ora il Vescovo probabilmente con queste norme non lo potrà più fare o se lo farà poi ne pagherà le conseguenze. Il cardinale Victor Manuel Fernandez, sembra che stiamo parlando sempre della stessa cosa ma in realtà la stiamo analizzando da punti di vista diversi con sfumature diverse soprattutto. Il cardinale avverte sul rischio che alcuni individui possano sfruttare tali fenomeni per trarre vantaggi personali come lucro, potere o fama fino a compiere atti moralmente riprovevoli. È una chiara munizione contro l'abuso e la manipolazione a danno dei credenti. Il Vaticano si guarda anche dal pericolo di errori dottrinali e dalla diffusione, dunque di uno spirito settario che potrebbe distorcere il messaggio del Vangelo. È un richiamo alla coerenza e all'integrità nella trasmissione della fede al fine di proteggere i fedeli da influenze negative e da possibili deviazioni, naturalmente anche proteggere dunque la religione e il Vaticano stesso. In conclusione le nuove norme del Vaticano rappresentano un tentativo di stabilire un equilibrio tra il rispetto per la spiritualità dei credenti e la necessità di proteggerli da manipolazioni e abusi che non siano quelli del Vaticano stesso. È un appello alla responsabilità e alla prudenza nella gestione dei presunti fenomeni soprannaturali, garantendo che la fede resti salda e autentica, così come la insegna la religione cattolica, garantendo che la fede sia solo quella che dicono loro sia vera. Il Vaticano pone grande enfasi sull'importanza dunque di valutare attentamente la credibilità e la buona fama delle persone che sostengono di essere protagoniste di eventi soprannaturali. Dunque se uno è un bravissimo attore è molto bravo a fingere e si fa una buona fama e non fa errori come alcuni di cui abbiamo parlato, tantissimi errori che ha fatto Gisella Cardia. Dunque se è bravo a fingere e a fregare il prossimo allora probabilmente riesce anche a fregare il giudizio, a farsi dare un giudizio dalla Chiesa che non è quello che si merita, se è abbastanza bravo a fregare il prossimo. Elementi quale l'equilibrio psichico, l'onestà morale, la sincerità e l'umiltà sono considerati dalla Chiesa fondamentali per stabilire la validità di tali affermazioni. Per essere onesti intellettualmente però anche noi dovremmo avere l'opportunità di valutare attentamente l'equilibrio psichico, l'onestà morale, la sincerità e l'umiltà di papi, vescovi, preti, religiosi, evangelisti e tutti coloro che ci hanno proposto invece la versione ufficiale che il Vaticano cerca di proteggere gelosamente tutti coloro che affermano la veridicità di fenomeni soprannaturali che non riescono però a dimostrare scientificamente. Allora anche io domani mattina mi invento un Dio, un'apparizione e vivo grazie a quello. Sarebbe onesto? Dimostrami davvero che l'Urde e Fatima sono vere apparizioni. Ma non me lo dimostrare solo dicendo che lo Spirito Santo o chiunque altro te lo conferma. Dimostramelo scientificamente. Non sono io a doverci credere ma tu a doverlo dimostrare. Se fai affermazioni simili e che influenzano così tante persone, il comportamento, la fede. Pensate a quanta gente disperata va all'Urde ogni anno e viene illusa che possa guarire soltanto bevendo l'acqua benedetta o andando all'Urde facendo preghiere eccetera. Perché questo secondo me è molto grave. Però quello che dice la Chiesa è vero anche per lo Stato italiano che è laico. Mi sembra molto strano tutto ciò. Altrimenti se tu fai affermazioni del genere stai cercando sempre di manipolarmi o mi stai in qualche modo truffando. I stessi concetti che si applicano a Gisella, Cardia e ad altri veggenti dovrebbero essere applicati a tutte le religioni che affermano e confermano fenomeni soprannaturali che lo sono solo perché lo affermano loro. Non c'è mai una prova. Ma mica siamo scemi? Ce l'abbiamo un cervello. E qui su Radio Fugironer ogni tanto si può anche usare. Il di Castero della dottrina della fede sottolinea che nessun fedele è obbligato a chiedere, a credere, scusate, alle presunte apparizioni neanche quando il giudizio della Chiesa non lo smentisce. Se viene concesso un nil opstat, ciò non implica un obbligo di fede, ma piuttosto rappresenta un'opportunità per approfondire la conoscenza di Cristo e radicarsi nella comunione con la Chiesa. Dunque, pensate a quanto è furba la Chiesa, ma naturalmente lo sappiamo, non è che è nata ieri, no? Dice, se noi diciamo che un fenomeno è vero, ma non siete obbligati a crederci. Andate, pregate, comprate santini, rosari, fate pellegrinaggi, alberghi, ristoranti, eccetera, eccetera. Spendete, andate, sperimentate, godetevi la vacanza, ma non siete mica obbligati, se noi diciamo che è vero. Non è che vi diciamo che dovete crederci. Facile la vita, eh? Così se qualcuno andasse con un avvocato a cercare di ottenere qualcosa dal Vaticano o dalla Chiesa dicendo guardate, io mi sono illuso che all'urde sarei guarito e invece vi chiedo tot di danno, no? Per dire, perché avendo la Chiesa riconosciuto ufficialmente questo, dice che sono vere queste apparizioni, dice che questo posto è sacro, che questo posto, eccetera, 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 io ho fatto questo, questo e questo, mi avete illuso, mi sono a pensare, non sono guarito, eccetera, eccetera, ora vi chiedo i danni. Ma la Chiesa dice, non obblichiamo nessuno a crederci, o meglio, se siete dei cattolici, dunque, sì, vi chiediamo di credere in determinate cose, di professare una determinata fede, ma non siete obbligati a credere a questi fenomeni soprannaturali, per cui quali soldi vuoi, quale rimborso vuoi, ti attacchi al cavolo, insomma, è molto furba la Chiesa, no? Da questo punto di vista. Se invece un ex seguace, non so, mi viene in mente Paola Felli, ex portavoce di Gisella Cardia, o Avella, di cui abbiamo parlato a lungo, no? Questi personaggi ex seguaci, che poi invece stanno andando contro, facendo causa, insomma, eccetera, a Gisella Cardia, loro, se si sentono ingannati, manipolati, truffati, denunciano Gisella Cardia, probabilmente riusciranno ad ottenere qualcosa. Ma se invece questo, lo stesso tipo di manipolazione, lo stesso tipo di coinvolgimento e di truffa sia avvenuto in un altro posto riconosciuto dalla Chiesa, che potrebbe essere, non so, l'URD, sempre per fare lo stesso esempio, allora a quel punto tu cosa fai? Denunci la Chiesa? La Chiesa ti dice mica, tu non sei obbligato a crederci, per cui io non ho nessuna responsabilità se tu poi ci hai creduto. Dico che è vero, eh, per carità, ma mica ti obbligo a crederci. E allora, concludendo questo episodio speciale, vorremmo lanciare un invito a tutti voi, cari ascoltatori. Quando ci troviamo di fronte a presunti fenomeni soprannaturali, sia che vengano proclamati dalla religione ufficiale, sia che siano attribuiti a veggenti o altri individui, è fondamentale approcciarli con un atteggiamento razionale, logico e scientifico. Troppo spesso ci troviamo immersi in un mare di informazioni, talvolta contraddittorie, che possono confondere e indurre in errore. È cruciale mantenere la propria indipendenza di pensiero, non cadere nei tranelli di chi cerca di manipolare ed influenzare. Vi invitiamo ad essere voi stessi, a pensare con la vostra testa e ad esercitare un discernimento critico su ciò che vi viene presentato, da chiunque vi sia presentato. Solo così potrete giungere a conclusioni che rispecchiano la vostra realtà e le vostre convinzioni più autentiche. Con questo messaggio di responsabilità e libertà di pensiero concludiamo l'episodio di oggi. Vi ringraziamo per averci accompagnato e vi invitiamo a restare sintonizzati su Radio Puginion Air per ulteriori approfondimenti e discussioni sulla spiritualità, la religione, l'attualità, la cronaca, la musica, lo spettacolo e tanto altro. Solo qui a Radio Puginion Air. A presto e ricordate, siate voi stessi e pensate con la vostra testa.